E-X900 Sport è la nuova e-bike di Olimpia, biammortizzata con escursioni da 160 davanti e 150 dietro, è una bici dalle alte prestazioni, facile da guidare, freni a doppio pistoncino con il nuovo gruppo SRAM SX a 12 rapporti. Una caratteristica che la contraddistingue è l'alta capacità della batteria per avere sempre quell'energia in più quando ci serve. È una full suspended, tutta in alluminio, la quale porta in dote due importanti novità facendo parte della nostra nuova gamma che sono la nostra nuova batteria Olimpia Power 9 da 900 wattora, che ricordiamo è un nostro nuovo progetto in quanto di fatto è una batteria progettata e sviluppata interamente da Olimpia, sviluppa, ci teniamo subito a dirlo, 900 wattora, che è un dato per noi molto importante, forse siamo i primi o comunque fai i primi sul mercato a proporre una batteria con una capacità così elevata, con una sola unità. Questa batteria si distingue anche dalle dimensioni ultra compatte, questo è stato possibile grazie a uno studio accurato del posizionamento delle celle all'interno del box batteria, che ci ha permesso di collocare 50 celle all'interno del box. La batteria è formata da una serie di celle di nuova generazione, le 21700, in totale il pacco batteria della nuova EX900 Sport offre ben 900 wattora di potenza. Volevamo in questo caso offrire all'utente finale una bicicletta prestante, ma al tempo stesso facile da guidare e soprattutto nonostante sia dotata di prestazioni molto importanti, perché quindi ricordiamo, bene o male tutti i motori elettrici, se sollecitati a fondo, generano dei consumi molto importanti, con una batteria appunto dotata di 900 wattora, contiamo di poter offrire sempre all'utente finale queste ottime prestazioni che abbiamo appunto menzionato, ma prolungate nella lunga distanza. La batteria alimenta il motore Oli Sport, prodotto dall'azienda romagnola Oli S.P.A. È il motore perfetto per chi cerca una EMTB più reattiva possibile, infatti basti pensare che questo motore è dotato di un sensore di coppia di estrema qualità che gli consente di offrire un'assistenza praticamente istantanea, basta la ben che minima pressione sui pedali per fare in modo che il motore entri in azione. Quindi le classiche situazioni che si possono avverare sui percorsi più tecnici, impegnativi come per esempio una ripartenza di fronte a un ostacolo imprevisto oppure anche semplicemente una ripartenza con il rapporto finale ancora inserito, questo motore agevola tutto questo perché la risposta appunto istantanea e l'erogazione anche del motore stesso, perché ricordiamo è un motore che è in grado di offrire 85 Nm di coppia dai regimi pedalati al minuto più basse fino alle più alte, quindi di fatto è un motore che asseconda il più possibile l'utente che utilizza la bicicletta nei percorsi più tecnici, più impegnativi e quindi di fatto cerca la bicicletta che più lo assecondi in queste situazioni. Un'altra caratteristica da sottolineare riguardante la nostra EX900 Sport è il fatto che è una via montizzata che nasce con ruote differenziate, vale a dire ruota anteriore 29x2.6 e al posteriore troviamo una 27.5x2.8, questa è una soluzione che offre, garantisce al tempo stesso maggior direzionalità della bici e maggior trazione al tempo stesso. Ovviamente si parla di sensazioni di guida che magari non tutti gli utenti finali condividono perché chiaramente ognuno ha il suo modo di guidare. Per ovviare a questo abbiamo sviluppato comunque una soluzione che noi abbiamo chiamato Flipchip, diamo la possibilità di offrire la stessa bicicletta, la stessa EMTB configurata con ruote differenziate 29x27 oppure ruote come la soluzione classica 29x29. Una bici innovativa, questa EX900 Sport con una grande potenza adatta a chi ama le lunghe distanze, a chi ama pedalare per tanto tempo senza rischiare di rimanere a secco. Grazie a tutti.